ciao gingerismo dove sei? sono sopra un cuore ma dove sei a pechino? pechino ma è smog quello è smog no ragazzi potete capire senti ma hai mangiato gli scorpioni? no mi hai detto calamaro le gambe del calamaro e c'è un meraviglio giorno un mercato che stava aperto fino a tardi ho un odore che gli sono stata male mi è venuto ancora male l'idea da zero che avevamo tutti filmati a luglio perché è bellissimo che cucinano di tutto dai mani, le cavallette, gli scorpioni vivi li mettono sulla piastra con gli spiedi, li mettono sulla piastra gli odori ragazzi, quelli che scatarono dappertutto vabbè scatarono per strada? le donne ragazzi le donne, mi guardano tutti perché parlo con un telefono le donne guarda è meraviglioso che schifo sono tutti in giro con questa mascherina perché io ho mal di testa da quando sono arrivata non so se lo smog però vabbè troppo bello è una realtà pazzesca adesso stiamo andando con un centro commerciale, un centro di fake voglio comprarmi tutte le borse fitte del mondo brava, brava, compra spiegami, è un centro commerciale dove ci sono solo falsi? solo fake, sono 7 piani di fake ok? guardate qua di Borsello, Marsupi no ma è legale quindi, è legale? è legale qua, l'ho letto nella guida però è come se lo fosse insomma, papà non mi posso muovere perché sennò lo fai tutta e quindi però bellissimo camminare sulla muraglia è qualcosa di stupendo e all'uscita abbiamo mandato le foto le ho fatto anche tutto il video che dura 12 minuti che si è su questo bob che è solo una che va per frenare e accelerare no? e ti scendi dalla muraglia cilese con questo bob no ma come col bob? con questo bob ho dato le foto che uscivo si l'ho vissi veramente 5 minuti poi mi poteva mai se vai con io con il mio papà non lo vedevo più quindi mi calentavo un tiro e poi il ragazzo è andato invece poi si era incastrato con la borsa col bob mi rimane malissimo ehi senti Ginger ma hai attaccato l'adesiva Sganaway sulla muraglia? sulla muraglia? l'ho attaccato grazie allora l'ho attaccato con il padre e poi abbiamo fatto i video e abbiamo fatto le foto sulla muraglia che è una vera sterrona ragazzi grazie no però c'è tutte le scritte quindi non ho fatto niente magari ve lo tolgono ma cos'è diventa buio in un secondo? qua sono le 18 e qui sono le mezzogiorno e 20 eh 18 e 20 si siamo 6 ore avanti e basta adesso ho tutto l'adesiva ne ho 3 ragazzi devo attaccare ancora 2 decidete dove una da Shanghai una da Shanghai una da Shanghai una da Shanghai e adesso quest'altro vediamo è il fake lo metto comunque faccio il selfie dai è il fake sera numero 1 va bene dai Ginger ti salutiamo divertiti ci sentiamo domani se mangio se mangio stasera qualcosa di particolare vi faccio spiegare va bene vi faccio mangiare da mio padre magari si usa lui usa lui come cavia mi porto un ragno più nella testa ok? ok ciao Ginger ciao 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 ciao